buongiorno a tutti ecco oggi c'è un po di sole finalmente dopo la grande pioggia di ieri e cominciamo la giornata oggi la destinazione è poche se il tempo regge dovrebbe essere abbastanza panoramico di chi ma show andiamo ormai nipanveo ormai nipanveo ormai nipanveo Um mani panneu, um mani panneu, um mani panneu, um mani panneu. Questa è il mantra che recitano ogni mattina gli Sherpa e comunque anche i tibetani che praticamente sono la stessa cosa perché i Sherpa si mossero dal tibet tanti secoli fa e occuparono questa valle, la valle di Kumbu e questo mantra è il mantra che cantano la mattina per buon auspicio, per allontanare tutte le cose cattive. Ogni lettera ha un significato, om mani panneu, um, ognuno ha un significato ed è associato a un colore, la misericordia, l'allontanamento dell'avarizia, l'allontanamento della gelosia, dall'orgoglio, insomma. Ok, qui c'è il bivio, vedete non bisogna andare giù nella valle, ma noi saliamo su perché andiamo a Porce. questa è la direzione di Porce, c'è un cartello, vedete Everest Base Camp. ultima show! Guardate questi, non so come chiamarli, portatori di tavoli armati. queste salite mostruose. Guardate che bel giardino naturale. questa quota, miracoli. vedete, guardate i tipi di tutti i tipi. vedete. Ciao! Wa! Ciao! Ecco qui, due, tre, bucce, un'ora, bucce tanga, bucce tanga. Stupa, il viewpoint, la vista, guarda, è magnifica, magnifica, anche se è rovoloso. Quello è tutto il sentiero che abbiamo percorso fino adesso. Piano piano ci avviciniamo alla meta di oggi. Quella è bucce, però vedete, prima bisognerà scendere, scendere, scendere e poi risalire. La legge della montagna, soveggio. Comunque oggi più o meno tutto in quota. 3.500, quindi non c'è un grande dislivello. Respiro bene, senza problemi. Ecco qui, di porce, un'ora e mezza, mongo due ore, dole due ore. Porce, un'ora e mezza di salita. 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 Non c'è la fine della fortuna. Tu ti? Un'ora e mezza di salita. Un'ora e mezza di salita. ecco si inizia a vedere il ponte il ponte se fiume non è un ponte sospeso probabilmente qui c'è troppo vento quindi hanno deciso di farlo di metallo fisso questo è il panorama di rotodendri ommani benne ommani benne ommani benne ommani benne quindi ommani benne ommani benne ommani benne ommani benne ommani ok Porsche eccoci oggi 3810 metri sto benissimo Grazie a tutti Ciao Namaste Ciao Namaste Ok, eccoci Questo sarà l'alloggio di questa notte Little Sherpa Lodge in caffè Entriamo Questa È La solita Reception Listorante Questa è Ecco qua Siamo arrivati Questa è la camera B4 Ecco qua Le mie cose Bella Bella camera d'angolo Con la vista Vedete La foschia Perché adesso Così è Però Non male È Non male Ma C'è Questa è Questa è No, 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 no. E' un po' di mare... Anche qua che fai? Sì Che fai la sua? Che fai? Tu oi? Cosa? 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 Non questa signora ha 99 anni, meravigliosa ma come un lavoro? ma come un lavoro il nostro lavoro è bello la nostra bambina è bella bravo e ok ma bella buona Grazie a tutti.